Allora, la regina Elisabetta è interpretare questo ruolo in Inghilterra è una grande responsabilità. Innanzitutto devo dire che è stata una grandissima sovrana, una grandissima donna, difficile e complicata. Ripeto a dire, una grande responsabilità per me, specialmente qui in Inghilterra. E dopodiché il trucco, i vestiti, le parrucche è fondamentale perché aiutano la trasformazione. Ok, ora sono Elisabetta. Elisabetta, The Queen. Ilisabetta, The Queen.